Famigliari e fedelissimi sono i destinatari dell'ondata di grazie presidenziali firmate nelle ultime ore da Donald Trump. Nell'ultima lista di 26 nomi figura anche quello di Paul Manafort, direttore della campagna elettorale del 2016, condannato a sette anni e mezzo per frode fiscale e bancaria nell'inchiesta su Russiagate. Il secondo nome che fa discutere è quello di Roger Stone, ex consigliere di Trump, anche lui coinvolto nell'indagine che ha accertato ingerenze russe nella campagna vinta dal presidente. Stone è ritenuto colpevole di falsa testimonianza, ostacolo alla giustizia, false dichiarazioni e di aver fatto da tramite tra il comitato elettorale di Trump gli hacker russi e Wikileaks, vicenda da sempre definita una montatura da Trump che ha graziato anche Charles Kushner, padre di suo genero Jared.